Due camere a pressione positiva e negativa per il reparto di malattie infettive è il dono della comunità di Albagnano all'ospedale Castelli, un intervento che ha costato 180.000 euro, di cui 94.700 donati in ricordo di Lama Ganchen, con un contributo da parte della Fondazione Comunitaria del VCO di 20.000 euro e di 5.300 euro da parte del Lions Club. Le camere sono già state installate e sono operative. A che cosa servono queste camere? Sono camere a pressione variabile. Che cosa significa? Possiamo creare all'interno di queste camere una pressione negativa o una pressione positiva. E questo cosa serve? Una camera a pressione negativa non permetterà l'uscita dell'aria dalle camere, per cui pazienti con malattie estremamente contagiose che possono emettere nell'aria virus o batteri, i virus e i batteri rimangono dentro la stanza, vengono filtrati dai filtri e viene eliminata aria pulita. Camere possono diventare camere a pressione positiva e questo che cosa significa? Che l'aria dall'esterno non può entrare se non è filtrata, per cui i pazienti gravemente immunocompromessi non vengono a contatto con virus o batteri. Un'importante donazione in ricordo di Lama Gancen. Sì, questo Lama Gancen ha sempre voluto aiutare tutti ovunque si è trovato e quando è venuto qua in ospedale lui ha detto voglio aiutare l'ospedale, dicendo che la priorità in questo momento è aiutare la nostra comunità nel senso più ampio. Noi stiamo realizzando la costruzione del nostro tempio e lui disse la priorità è l'ospedale. Quindi ci siamo messi tutti insieme per vedere in che modo si poteva fare qualcosa che servisse all'ospedale anche a lungo termine. Quindi parlando con la gestione e l'amministrazione dell'ospedale, con il primario, dottor Mondino, sono arrivati a questa richiesta e abbiamo messo tutti gli sforzi insieme per realizzare il tempo più breve e per noi è un senso di ringraziamento anche all'Asla, un senso di ringraziamento all'ospedale perché quello che l'Asla e l'ospedale e tutti i medici stanno facendo per noi è milioni di volte più grande di qualunque cosa che noi potiamo fare. Un gesto di altruismo da parte di una comunità che ricorda così la sua guida spirituale e che deriva da una sofferenza che si è stati capaci di tramutare in azione per gli altri e quindi in questo caso avere un ospedale con due camere all'alta avanguardia. Un dono che testimonia la gratitudine e la riconoscenza verso quello che medici, infermieri, personale sanitario sta facendo in questi mesi? Sì, la comunità di questo territorio, in particolare la comunità buddista ma anche tutti gli altri donatori che hanno partecipato a questa importante iniziativa di donazione testimoniano la presenza di valori etici e umani che rafforzano la nostra consapevolezza.